All'Associati Fisiomed si parla di prevenzione, ad esempio di mammografia, ma la donna in gravidanza, la futura mamma ha bisogno di assistenza sempre e quindi per parlare di ostetricia abbiamo Melissa Falistocco. Grazie. Lavoro presso l'Associati Fisiomed da circa dei anni e mezzo. È stato secondo me importante introdurre la figura dell'ostetrica perché è un po' quella figura che è in grado di seguire la donna a 360 gradi. L'orientamento dell'assistenza ostetrica è prevalentemente di tutela della salute, di promozione della salute e di prevenzione. Quindi si affianca ovviamente ad altre figure, che è quella del ginecologo, dell'urologo, del medico di famiglia, però è importante perché l'ostetrica è quella figura un po' di appoggio per la donna e soprattutto durante la gravidanza è quella che è in grado di fornire le adeguate informazioni proprio per l'igiene di vita, per la prevenzione e in particolar modo presso l'Associati Fisiomed facciamo prevenzione del pavimento pelvico. Oggi abbiamo parlato appunto di pavimento pelvico che è quel muscolo, anzi è un insieme di muscoli perché è un complesso importante che racchiude il bacino inferiore che ha moltissime funzioni. In gravidanza sono importantissimi, quindi arrivare in gravidanza e arrivare al parto con un pavimento pelvico allenato è fondamentale, incide qualitativamente sulla vita della donna anche successivamente, quindi è importante conoscerlo, prevenire le sue disfunzioni, curarlo e se ci sono disfunzioni ovviamente riabilitarle. Infatti presso l'Associati Fisiomed abbiamo la possibilità di utilizzare il biofeedback, l'elettrostimolazione funzionale che non può essere usata nel momento della gravidanza ma che è fondamentale poi successivamente sia dopo la gravidanza che soprattutto poi in menopausa proprio per ridare, per riabilitare questo muscolo importantissimo.